Benvenuti in Clash, la nuova modalità torneo pre-squadre. Si tratta di tornei nei quali giocare in modo competitivo a prescindere dal livello. Potete essere gli SKT del bronzo o i migliori della vostra regione e ottenere ricompense esclusive. Ogni torneo dura tre giorni e si tiene ogni due settimane. La squadra rimane la stessa fino alla fine. Createla nella sezione Clash. Scegliete il nome e il logo della squadra e invitate gli amici. Ognuno dovrà avere un livello classificato nella landa e il livello 2 di onore. L'abilità della squadra determina il livello, ma i giocatori di livello più alto hanno più influenza. Se avete quattro bronzi e un platino, affronterete avversari delle leghe più forti. A proposito, abbiamo modi per evitare lo smurfing così che un TAMKANCH Challenger non si mangi la vostra squadra. Prima dell'inizio del torneo, la squadra ha 30 minuti per confermare la presenza. Se qualcuno si addormenta, la squadra perde il suo slot nel torneo. Non andate AFK. L'ispezione comincia dopo la conferma. Potrete vedere statistiche e scelte degli avversari che vedranno le vostre. Il vostro Draven potrebbe essere bannato. In Clash, tutti i campioni sono sbloccati per coordinarsi meglio nella selezione. Il primo giorno sarete in un'eliminatoria a quattro con avversari dello stesso livello. Se vincete entrambe le partite, passate all'eliminatoria successiva, il giorno dopo, a otto. I vincitori competono il terzo giorno nell'eliminatoria a sedici per il trofeo del campionato. Potete entrare in un'eliminatoria a quattro tutti i giorni, ma solo chi compete dal primo giorno può arrivare all'eliminatoria a sedici. Le eliminatorie sono eliminazione diretta. Se perdete una partita, siete fuori dalla corsa per il trofeo. Ma se venite sconfitti nella prima partita, i premi non finiscono. La squadra può guadagnare ricompense nelle eliminatorie di consolazione e si può rientrare il giorno dopo. Per mantenere i Clash, un torneo ad alta posta è necessario un biglietto. Se invece siete sicuri di voi, ad esempio pensate di assaltare una torre a livello 2, è disponibile un ingresso premium per 5 biglietti. Un biglietto dà diritto alle ricompense base, mentre l'ingresso premium migliora i premi. Potete ottenere biglietti dalle missioni, come regalo dai compagni, o acquistarli con essenze blu o RP. Clash ha premi nuovi che migliorano con le vittorie. Vincendo le partite otterrete punti vittoria che si accumuleranno nell'arco di due tornei per sbloccare ricompense uniche come loghi e standardi. Le capsule Clash vengono conferite a fine torneo. I premi migliori, i trofei, sono per chi vince le eliminatorie. Questi appariranno nel nexus delle partite nella Landa per due settimane dopo un torneo. Questa è stata solo un'infarinatura. Potete trovare altre informazioni nel nostro hub di Clash. Cimentatevi con Clash e create la vostra storia. Cimentatevi con Clash